Presentata la piattaforma informatica, progettata su proposta dell'assessore Nicola Campitelli per dare avvio alla consultazione pubblica con il territorio, in particolare con enti, ordini professionali e cittadini, nell'ambito del processo partecipativo per la redazione della nuova legge urbanistica regionale. Sono intervenuti, tra gli altri, il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, il direttore regionale Pierpaolo Pescara e i componenti del gruppo di lavoro costituito per la redazione del testo di legge. Partiamo dal basso anziché calare dall'alto una legge che ha un principale obiettivo, rigenerare il territorio, semplificare e avviare il processo di transizione ecologica, ha esordito l'assessore all'urbanistica Nicola Campitelli. Le esigenze presenti rispetto al 1983, anno in cui è stata approvata la prima legge urbanistica tuttora vigente, sono cambiate radicalmente. Prima, osserva ancora l'assessore, la pianificazione del territorio aveva l'obiettivo di disciplinare l'edificabilità. Oggi, invece, il testo dovrà contenere i principi normativi che riducono il consumo del suolo e combattono gli effetti dei cambiamenti climatici. Il portale rimarrà aperto fino al prossimo 31 agosto 2021 e le osservazioni e le proposte saranno successivamente rese pubbliche.